Dal 2 di settembre al 18 novembre, Balestre e Verrette nel ristorante Fiorentino. Il gruppo F13, si potrebbe dire capitanato se non coordinato da Maria Cristina Moreschi, espone le foto che ha realizzato in un preciso anno al palio della Balestra. Allora, la mostra si avvia verso la conclusione. Come raccogliamo i consensi di Maria Cristina Moreschi per un'iniziativa che, mi pare di capire, ha avuto grande successo? Assolutamente sì, ha avuto un grande successo. So che è stata visitata da moltissime persone e poi c'è stato un alto riscontro per quanto riguarda le immagini. Il fatto che i diretti interessati, ovvero i balestrieri, ma anche i tamburini, piuttosto che chi fa il corteo storico, sono stati molto contenti di aver avuto le loro immagini prodotte e messe a disposizione della cittadinanza di Sansepolcro, ma anche naturalmente dei tantissimi turisti che poi passano per questa meravigliosa città. Si potrebbe dire che voi avete giocato facile perché avete toccato una delle più grandi sensibilità della città di Sansepolcro, ma quante sensibilità avete portato? Cosa hanno fotografato i vari fotografi e quali sono state le differenze tra i componenti dell'esposizione? Sì, devo dire che ognuno di noi poi ha preferito un aspetto, il ritratto puro e quindi cogliere le espressioni di chi era pronto per scoccare la verretta e chi invece magari ha colto più la parte meccanica e quindi tutti i particolari della balestra e chi invece ha raccolto i colori di Piero della Francesca che sappiamo bene sono applicati nei vestiti meravigliosi di queste madonne splendide del corteo. Una considerazione sulla fotografia. Oggi voi vi muovete con una tecnologia digitale. Tutti hanno utilizzato, si potrebbe dire, la massima potenza dei mezzi, dei tempi. La fotografia sta cambiando? Sì, beh, adesso diciamo che la fotografia analogica è, come dire, dedicata solo a una nicchia anche se rimane un'esperienza meravigliosa. Il digitale è logico che ti dà delle opportunità assolutamente infinite per migliorare anche la tua foto, per ottimizzarla così come deve essere fatto. E questa mostra è stata resta possibile grazie a una delle anime di Sansepolcro, Alessia Uccellini, che è la responsabile di un ristorante che riguarda la città e in qualche modo è la città. Assolutamente. Alessia ci ha accolto, ha proposto anche lei di portare queste nostre immagini nel suo spazio perché io lo ritengo non solo un ristorante ma una vera anima di Sansepolcro, un luogo dove la città si ritrova e dove, diciamo, chiunque passa per Sansepolcro dovrebbe entrare in questo luogo, in questo spazio così ricco anche di suggestioni. E quindi quale posto migliore per, come dire, portare la tradizione più vera di Sansepolcro. Si sta delineando un futuro per questa mostra. Non so se è possibile dire tutti i particolari ma è vero che avrà una continuazione? Sì, devo dire che il successo di questa mostra è anche la meravigliosa inaugurazione che la società Ballestrieri ci ha riservato. Così ci ha spinto a pensare a un approfondimento e quindi adesso io non posso dire nulla perché è tutto in itinere ancora però speriamo, speriamo che per il prossimo anno, per il prossimo palio ci sia questa sorpresa che il gruppo F13 sta preparando. Maria Cristina Moreschi prepara un viaggio un po' particolare. Dove andrà? Ed è vero che c'è sempre la mano protettrice di Iago Corazza, fotografo di caratura internazionale? Sì, devo dire che il nostro, come lo chiamo io, il grande guru Iago Corazza che è, diciamo, come hai detto tu benissimo, l'anima anche di questo gruppo F13 nel senso che è stato il nostro maestro di fotografia. Adesso ci porterà ancora nuovamente nelle strade per le strade del mondo e quest'anno, insomma, esploreremo una parte invece del sud del mondo e quindi vedremo un pochino i contrasti e le meraviglie del Sudafrica. C'è una differenza tra fotografare il palio della balestra e il Sudafrica? Che cosa vuole cogliere il fotografo? Ormai siamo tutti d'accordo nel dire che nella fotografia c'è uno spirito artistico. Cosa guarda il fotografo e soprattutto cosa guarda Lamoreschi? Allora, ognuno di noi interpreta la fotografia, interpreta l'immagine in maniera diversa. Sinceramente io vorrei cogliere, come dire, le sensazioni e le emozioni di quello che ciò che vedo mi trasmette. Soprattutto, diciamo, a me piace fotografare le persone e le persone con la loro vita che traspare negli occhi, nei loro movimenti, nel loro propriamente essere. Quindi credo che Sudafrica con questa storia così travagliata e così ricca che ha avuto nella sua vita possa essere una bella opportunità. È difficile definire la personalità di Alessia Uccellini, tanto è multiforme e certamente bisognerà dire che è un po' l'autrice di queste mostre. Ce ne sono state ormai tante. Sta diventando una tradizione quella di esporre nel ristorante anche la creatività. Tu sai che io sono architetto e lavoravo in galleria agli uffizi. Allestivo le mostre e tornare al ristorante è stato proprio amore per la tradizione, per la mia famiglia, per i miei genitori. Quindi quando poi mi sono trovata qua, effettivamente avevo bisogno delle mostre perché quello che ho imparato là lo volevo portare dentro al ristorante. E così abbiamo cominciato. Tu sei stato l'autore della prima mostra dentro al ristorante con la compagnia degli artisti di Sansepolcro. E poi invece adesso ho preso questa piega della fotografia che ha un'immediatezza, una freschezza che è compresa da un pubblico più vasto rispetto alla pittura. E quindi, niente, andiamo avanti con le mostre. Allora, il 18 si conclude Balestre e Verrete. È vero che c'è già un nome, sempre per una mostra fotografica, di chi si tratta? Si tratta di un amico da una vita, che è Andrea Mambrini, con cui abbiamo condiviso tante cose e adesso ha trovato una sua dimensione con la fotografia, una sensibilità inaspettata. E quindi diamo spazio a lui con queste meravigliose foto della nostra Toscana, ma non solo. E Mambrini, ecco, non diremo nell'esattezza cosa risporrà, ma diciamo è stato autore di scatti molto belli relativi a un fatto, si potrebbe dire, temporale. Quali? Sulla dritta di Anghiari il sole che sorge in un solstizio spostato, perché poi l'allineamento solare è cambiato negli anni. Alle sei di mattina tutte queste persone su questa discesa, questo stradone trecentesco che taglia la centuriazione della Valtiberina con questa luce dorata, argente, fantastica. È doveroso analizzare anche altre prospettive di Alessia Uccellini. È vero, il ristorante ha un suo grande successo, è amato per più motivi a San Sepolcro, ma anche da chi da fuori viene a conoscerlo. Alessia Uccellini cuoca e soprattutto conoscitrice della storia della cucina. Sarà docente nell'Indiana. Lo possiamo già annunciare. In che occasione e perché? Ma parto la prossima settimana e starò dieci giorni all'Università dell'Indiana a riproporre la cucina del Rinascimento e non solo. Sia la parte teorica che la parte applicata, quindi lezioni con slide su Piero della Francesca e tutte le cose legate al cibo in Piero della Francesca e poi andiamo in cucina e prepariamo la panzanella di Messer Bronzino o i nostri bringoli o gli abbinamenti del dolce e il salato. Per me è una fonte di grande soddisfazione, il riconoscimento internazionale di questo tipo è una grande opportunità. Cosa pensa Alessia Uccellini che sia l'elemento, quale pensa che sia l'elemento che rende la cucina italiana superiore alle altre cucine? Il sapore, l'amore e poi dobbiamo ricordare una cosa fondamentale che noi siamo stati fino al 1860 a tanti piccoli stati e poi l'Unità d'Italia ha portato un solo nome a tutti questi stati. In realtà in ognuna di queste regioni ormai si è sviluppata una forma di cucina differenziata dalle altre e abbiamo dei prodotti eccezionali, abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo una terra che ci dà delle cose impensabili in altri luoghi. Ci lamentiamo molto della nostra situazione, della nostra crisi eccetera ma questo è il bel paese e abbiamo una potenza di fuoco impressionante. Infine Alessia Uccellini è al fianco di Sveva Sagramola e nel canale Rai e tutte le volte ci presenta curiosità, storia della cucina. Tutti questi cammei finiranno mai se non in un prodotto video unico ma almeno in un libro? Ci stiamo pensando seriamente con l'autrice di Gheo che mi segue, la Catarina Zuccaro e con un altro personaggio che è una nutrizionista, una professoressa, una docente dell'Università di Roma che è venuta anche al ristorante, la Laura di Renzo. Stiamo pensando di fare una pubblicazione con le nostre cucine Gheo quindi credo che metteremo tutto per iscritto.